I film di Sergio Leone arrivano in borsa. Raffaella e Andrea, che oggi gestiscono la società fondata dal padre, hanno scelto Borsa Italiana per raccogliere le risorse necessarie a supportare i piani di crescita ambiziosi. Il titolo di Leone Group viene quotato su AIM Italia, il mercato per le piccole e medie imprese. Fatta eccezione per le SPAC, questa è la più grande quotazione per capitali raccolti su AIM Italia, che nel 2013 ha già registrato 11 nuovi ingressi e ne attende altri 4 entro fine anno. Noi siamo sempre stati abituati come azienda a fare i piccoli passi, quindi anche qui ci sembrava che Lime potesse essere, meglio essere diciamo importanti su Lime che magari meno su mercati principali. Speriamo di arrivare su mercati diversi quando avremo magari una solidità differente. La società arriva in borsa in crescita. Nel 2012 il giro d'affari era di 13 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2013 era già a 8,8 milioni. L'obiettivo è passare da una gestione familiare a un modello industriale. L'arrivo in piazza affari permetterà a Leone Group di migliorare ulteriormente il suo profilo internazionale e di attrarre grandi produzioni dall'estero. Ma allo stesso tempo l'operazione darà visibilità sul mercato sempre più globale anche a borsa italiana.